benvenuti a tutti sul mio canale io sono nancy e oggi parliamo di giulia e mirko si incontrano al falò di confronto per la prima volta nella storia del programma mirko viene convocato durante un'esterna con la tentatrice giulia alla fine del falò lei vuole tornare a casa con lui ma mirko invece è deciso a chiudere la relazione per la prima volta nella storia del programma una tentatrice saretta lascia il villaggio nonostante legame creato con un fidanzato antonio lei sente che il loro rapporto può essere solo di amicizia titi ritiene di aver visto abbastanza e chiede un falò di confronto anticipato durante il falò di confronto titi decide di lasciare antonio e viceversa lui non vedeva l'ora di chiudere la relazione titi invece stufa di stare al fianco di un uomo come lui smettendo di perdonare i suoi comportamenti da persona non innamorata nel falò di confronto anticipato invece tra mili e michele michele decide di lasciare i milli non perdonando i suoi comportamenti avuti al villaggio ma la decisione di michele sembra sia stata presa solo per orgoglio avete visto la puntata che ne pensate vi ricordo il prossimo appuntamento per la prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti